Eccoci qua, puntata davvero speciale, quella che andrà in onda nei prossimi giorni, in prima battuta come sempre alle 21 del giovedì, ma poi in replica di A Tu Per Tu. Perché Davide sei riuscito a portare questo bel giovane intanto? È una sardina retina e quindi questo movimento si è concretizzato anche a Rezzo, ma direi di dare la parola a lui, che ci dica che cos'è la manifestazione di sabato prossimo, quindi cosa vi aspettate, cosa sarà e dove sarà, eccetera. Quindi se vogliamo dare questo messaggio ai nostri concittadini. Perfetto, allora sì, anche a Rezzo come è stato in tantissime altre città d'Italia, anche in Toscana, ci sarà questo raduno informale di persone che manifestano per qualcosa da chiedere alla politica, che non è un programma piuttosto che un altro, ma sono il ritorno a dei valori, a una serietà, a un tipo di politica più centrata sui fatti e meno sulla propaganda. Ci troveremo in Piazza San Jacopo il sabato 25 e alle 6 e ci riuniremo come sono come stato per le altre manifestazioni, per parlare, per parlare, per parlare della nostra. Nessuna bandiera di nessun partito. Nessuna bandiera, quella è una regola importante di partito e associazioni, si scende in piazza come persone, al massimo portando una sardina appunto, il simbolo di questo movimento. Fondamentalmente contro un modo di fare politica che a voi non piace, mi sembra di capire, no? L'aggressività, la cattiveria, l'uso strumentale di far politica in modo, nei social, diciamo in modo molto aggressivo, non vi appartiene? Io non credo che si faccia politica contro qualcuno, io credo che la politica sia un servizio per le persone, per i cittadini, deve essere guidata dalle idee, dalle proposte, non dalla propaganda, non da quello che le persone vogliono sentirsi dire, perché funziona parlare in modalità aggressive, diciamo cercando un nemico piuttosto che delle soluzioni. Allora, ci fermiamo qua, perché poi l'approfondimento sarà ovviamente nella trasmissione di A Tu Per Tu di ogni giovedì, però dai tu l'appuntamento di questa piazza, insomma, che sperate, credo, che si riempia di sardina, no? Sabato alle... Bene, sabato 25 e alle 18. Dalle 18 in piazza San Jacopo. Piazza San Jacopo. Armati di sardina o senza sardina? Armati di sardina. Armati di sardina. Armati di sardina. Grazie. Grazie.